Musica Mercoledì 19 aprile 2017, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta Rassegna Stampa, oggi si ricorda Sant'Emma di Sassonia. Apriamo come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani, partiamo dalle prime quattro edizioni del centro, iniziamo con l'edizione di Pescara che apre con una notizia tragica accaduta ieri a Francavilla, muore mentre si allena in piscina, odonto tecnico di 59 anni colto da malore durante la notata. Poi la fotonotizia, vedete al centro questi bambini con delle colombe bianche perché ieri c'è stato il flash mob in Piazza Salotto, ieri pomeriggio tra l'altro vi dico che tra poco vedremo un servizio che abbiamo realizzato proprio in occasione di questa manifestazione, un flash mob dei parenti, delle vittime della tragedia di Rigopiano. Giustizia tra rabbia e lacrime per non dimenticare ma per chiedere anche giustizia. E poi le cronache, Ortona ha ucciso l'amica della moglie con 50 coltellate, ieri mattina è stata effettuata l'autopsia su Laura Pezzella, una delle due donne morte giovedì scorso ad Ortona, questa mattina ci sarà l'altro esame autoptico sulla moglie di Marfisi. Poi Pescara, raffiche di multe in arrivo per i furbi della sosta. Vediamo qualche altra notizia in basso, una notizia sicuramente più leggera, quella che riguarda la modella, l'attrice argentina Belen che dice Iannone a letto vale 11, la subrette parla del fidanzato vastese, pilota del MotoGP. Pescara, pipì nell'atrio della stazione, maxi multa di 3.300 euro. Andiamo avanti, siamo all'edizione di Chieti del Centro che apre con il titolo principale proprio sulla tragedia accaduta giovedì scorso ad Ortona con l'autopsia che svela la ferocia dell'omicida di Ortona sull'amica della moglie, come abbiamo visto prima, 50 coltellate. E poi San Salvo, nuovo attentato incendiario contro tre auto. E poi Chieti, l'addio del basket teatino, ma direi anche regionale, al coach dei tanti talenti della nostra pallacanestro, Mimmo Trivelli, scomparso nelle ultime ore. Andiamo avanti, siamo all'edizione di Teramo del Centro, in questo caso il titolo principale riguarda la crisi nell'aggiunta Brucchi. Brucchi per il sindaco, per il primo cittadino di Teramo, le dimissioni sono vicine, gli scontenti della maggioranza dicono solo così potrebbe recuperarci. E poi Mosciano, l'investitore si costituisce, dice avevo paura, avevamo parlato ieri di questo investimento accaduto a Mosciano con una 51enne investita e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Teramo. Poi Atri mangiano sushi in un bar, sette intossicati. E siamo all'edizione dell'Aquila del Centro, muore a 29 anni mentre va al lavoro, ancora morti sulle strade della nostra regione. La giovane donna celanese si schianta con l'auto contro un furgone a Sora, in questo caso l'incidente è accaduto in territorio laziale, però al confine proprio tra Abruzzo e Lazio. E poi l'Aquila, piano del parco, c'è l'ente sindaco del capoluogo di regione, sollecita proprio la regione sul parco. E poi Sulmona vince un milione al superenalotto, caccia al fortunato. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, va al lavoro, schianto fatale, Avezzano, auto contro un furgone sulla superstrada, Lucia Pierleoni, morta a 30 anni dopo le feste a casa. Era diretta a Latina dove aveva un impiego alla Johnson & Johnson, anche sul messaggero ovviamente si parla di questo incidente stradale. Poi aveva corso la maratona, ucciso da infarto in piscina, Francavilla in lutto per la scomparsa di questo noto professionista Mario Marinelli, che è stato colto da malore mentre era in piscina. Poi vedete la foto anche sull'edizione del messaggero Abruzzo, giustizia per Rigopiano, ieri il flash mob in piazza della rinascita a Pescara. Vediamo in alto altri richiami di argomenti che ritroveremo all'interno del giornale. Alba Adriatica, palme malate sul lungomare, il comune vuole abbatterle. E poi Teramo dai dissidenti, out a Brucchi, il sindaco minaccia la crisi. Sulmona ha vinto un milione al bar con la lotteria di Pasqua. E poi il caso, vedete questo articolo di spalla, incagliata la legge per tagliare i vitalizi. Infine, a fondo pagina ritroviamo anche la notizia dell'autopsia effettuata ieri sul corpo di Laura Pezzella, Laura Trafitta, 50 volte. Andiamo ancora avanti, siamo alla prima pagina del quotidiano La Città. In questo caso il titolo non può che essere quello riguardante la crisi della giunta a Brucchi. L'ultimo appello per l'amministrazione, domani il consiglio decisivo sulle sorti del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, si cerca ancora una quadra in extremis. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Ovviamente tra poco ritroveremo con le pagine interne, andremo a leggere gli articoli che si trovano all'interno delle pagine. Ma come sempre, ora diamo uno sguardo anche a quelli che sono i titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali che sono oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, me a sorpresa chiede il voto. La Premier, siamo a Londra, la linea sulla Brexit, più certezze. Sterlina in rialzo, cede la borsa. E poi vedete questo titolo con corredo di foto, l'Italia che crolla giù un altro viadotto. Ricorderete quanto accaduto un mese fa lungo l'autostrada 14 nei pressi di Loreto Marche con il crollo di un viadotto e la morte di due pensionati, tra l'altro di origine abruzzese. Ieri nel cunese si è sfiorata nuovamente la tragedia, è crollato un viadotto su un'auto dei carabinieri che sono riusciti a mettersi in salvo. Andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano, tutti contro Report, governo, Partito Democratico, Benigni e lobby dei farmaci contro Report, trasmissione di Rai 3. E poi in alto Vitalizi, i finti, dice il Fatto Quotidiano, tagli PD, si scordano i senatori. E poi Consip, cade un falso del capitano, del Noe. E poi la Repubblica, Report sotto accusa, rischia lo stop Rai, falsità sui vaccini. E poi la sfida sorpresa anche su Repubblica, ritroviamo questa notizia, di Teresa May al voto per dare più forza alla Brexit. Siamo a Libero, Renzi spappola la sua corte, litiga con i tecnici e prova a scaricarli. E poi vedete anche su Libero la notizia del crollo di un viadotto, cadono più ponti che governi. Purtroppo, dice Libero in Piemonte, un cavalcavia precipita sui carabinieri che fortunatamente riescono a mettersi in salvo. Il tempo di Roma a Fittopoli, lo scandalo non è di casa. Proseguiamo, la stampa di Torino, dal Fondo Monetario Internazionale, uno schiaffo all'Italia. Il rapporto riduce le stime del Governo, crescita 2017-2018, prevista allo 0,8%. Anche sulla stampa, la notizia del crollo del cavalcavia, giù un altro cavalcavia salvi due carabinieri. La verità, il Governo d'attacco della famiglia, l'Oxe ordina, Padoan esegue. E poi, a centropagina, in balia delle bande di minorenni stranieri, l'ultimo caso, in 60, devastano il treno 20 miglia Torino. Il sole 24 ore, Londra vota e scuote le borse. Balzo della sterlina dopo l'annuncio, listini disorientati. Londra, meno 2,46%. Quotidiano avvenire, il quotidiano della CEI, il coraggio della pace. Bartolomeo accompagnerà Papa Francesco in Egitto, tra i cristiani copti e islamici. E poi, a centropagina, si parla di politica nazionale. C'è l'intervista al leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che dice Vinco, non per strategia. Il manifesto, l'azzardo di Mey, voto l'8 giugno. E poi, stato d'arresto. Vedete questa foto che riguarda quello che sta accadendo in Turchia, dove migliaia di persone sono scese in piazza contro i brogli del regime, delle regime, scusate, nel referendum costituzionale dell'altro giorno, il mattino di Napoli. Attacco ai vaccini, bufera sulla RAI. E poi, Brexit, linea dura di Mey, sì, al voto anticipato. Il messaggero, Londra, al voto per blindare la Brexit. E poi, referendum all'Italia, con il no per l'azienda. C'è il fallimento. E poi, Ponte cade sul posto di blocco. Carabinieri, salvi, per miracolo, in Piemonte. E come leggiamo proprio in questa foto del messaggero, giù un altro cavalcavia, il terzo, in cinque mesi. Il secolo XIX, il quotidiano di Genova, Liguria, ora è guerra agli affitti in nero. E poi, vedete questa foto a centropagina, che riguarda un argomento che non è stato trattato dagli altri quotidiani, perché il Vespucci ritorna a scoprire l'America, oggi salpa dalla Spezia, la più bella nave a vela del mondo. E siamo all'unità, vaccini, un vero servizio pubblico. Si parla delle proteste, delle polemiche dopo la trasmissione report. E poi, vedete a centropagina, questi giovani inquadrati nel primo piano, proteste in piazza della Turchia, che non si rassegna al dittatore. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'IVA tra Renzi e Industriale, Orlando va contro Matteo, ostacola l'unità del centro-sinistra, dice l'attuale ministro della giustizia primaria. Il PD decide sull'esclusione di Emiliano in due regioni. E la Gazzetta del Mezzogiorno è l'ultimo quotidiano nazionale che prendiamo in esame. Dunque, possiamo ripartire dai quotidiani di casa nostra per andare a vedere quali sono gli argomenti trattati nei giornali. Oggi ne dico, ma prima di fare questo, visto che stiamo parlando di quotidiani nazionali, possiamo andare a vedere, perché no, anche i titoli dei tre giornali sportivi. Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Tutto Sport. Partiamo dal Corriere dello Sport. Ovviamente quella di oggi è la giornata forse più importante degli ultimi anni per la Juventus, perché questa sera si gioca la gara di ritorno con il Barcellona per quanto riguarda la Champions League. Si parte dal 3-0 e dunque vedete il titolo principale del Corriere dello Sport, che riguarda proprio la sfida tra la Juventus e il Barcellona, con, in caso di passaggio del turno, la possibilità per i bianconeri di ritrovare il Real Madrid in alto. Svolta Milan, Montella incontra Fassone e Mirabelli e in arrivo il rinnovo del contratto. Un big per l'attacco del Milan, Morata, Aubameyang e Lacazette. Andiamo avanti, la Gazzetta dello Sport, Notte da Giganti, Champions, Juve a Barcellona, missione semifinale. Infine Tutto Sport, scatenate l'Inferno, alle 20.45, Barcellona, Juve. Si prevede un clima caldo al Nou Camp di Barcellona, ma la Juve parte da un risultato sicuramente rassicurante, un 3-0 che regala ovviamente i favori del pronostico alla formazione allenata da Massimiliano Allegri, Juventus, che come molti di voi sapranno nell'ultimo turno di campionato è stata ospite allo stadio Adriatico del Pescara. Ripartiamo dal centro allora, torniamo ai quotidiani di casa nostra per vedere quali sono gli argomenti trattati all'interno del giornale. Si parla di economia, di affari e di finanze, la Cina che affarone l'export abruzzese e conquista Pechino. La Proger, nota multinazionale teatina, guida la delegazione con Pescara Calcio ed Imprese. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi perché in questo viaggio in Cina organizzato dalla Camera di Commercio di Pescara c'è anche il presidente della società Bianca Azzurra, Daniele Sebastiani. Acquistiamo tessuti, vendiamo farmaci, il saldo commerciale ci è sfavorevole, ma per il vino l'Estremo Oriente è il quarto mercato europeo. Ma Europa e Stati Uniti restano i nostri partner preferiti. Dunque comunque in questo viaggio in Cina l'Abruzzo cerca di importanti relazioni commerciali, di intraprendere e di migliorare importanti relazioni commerciali con la Cina. Europa sotto attacco, la Francia alle urne con l'incubo jadaista, si parla delle prossime elezioni in Francia, e poi la politica nazionale con lo scontro interno al PD. E poi vedete a pagina 7, vaccini, bufera, su report. Arriviamo a pagina 9 per parlare della bonifica di bussi che è stata affidata ad un gruppo belga, assegnata infatti al colosso Deck Dame la gara per il primo intervento da 50 milioni di euro. Proseguiamo, le pagine di cronaca regionale, l'Aquila scommette sulle comunicazioni e torniamo a ritrovare i cinesi perché il colosso cinese ZTE sta valutando l'ipotesi di insediarsi nel capoluogo scelto per sperimentare la nuova tecnologia in ballo fino a 100. Assunzioni, in basso parla il rettore dell'Università dell'Aquila, Inverardi, che dice grande passo per il territorio. E poi il sottosegretario Giacomelli dice scelta la città più avanzata per la connettività. In basso c'è un intervento anche del presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, che dice operazione strategica, effetti positivi per investimenti e lavoro. Siamo alla cronaca di Pescara dal centro. Si parte parlando di parcheggi, parcheggi selvaggi in questo caso, esercito di carroattrezzi contro i furbi della sosta, il Comune crea infatti un albo di imprese per avere un mezzo sempre in strada spesa di 740 mila euro. In due anni si prevede una strage di contravenzioni, scrive il centro. E poi, Pipin, stazione, multa di 3.300 euro, non vuole pagare. Per entrare nella toilette scatta la maxi contravenzione. Ricordiamo che anche nella stazione ferroviaria di Pescara, nella stazione centrale di Pescara, da qualche tempo i bagni, le toilette sono a pagamento. E poi, truffato insieme ai VIP, nuova denuncia per l'affare del resort di lusso in Belize. E poi, denunciato dalla volante, fermato otto volte in 15 giorni dopo aver rubato nei market. E poi, vandalinazione anche nel centro di Pescara, vedete da questa foto, perché è stata imbrattata la chiesa sul mare. Sono stati imbrattati i muri esterni della chiesa sul mare. E poi, festa per 100 laureati senza pergamena. Oggi la proclamazione del dottorato a Scienze Economiche, in attesa della firma del nuovo rettore. Andiamo avanti. Rigopiano, il ricordo. Abbiamo visto anche nelle prime pagine dei nostri giornali, rabbia e lacrime, una strage evitabile. Parenti delle vittime gridano il loro dolore. Ora, dateci giustizia. Ieri c'è stato questo flash mob, vedete le foto a corredo di questa doppia pagina, dei parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano a 90 giorni, a tre mesi esatti, da questa tragedia che ha segnato l'Abruzzo il 18 gennaio scorso. Ieri hanno partecipato in tanti con le foto, esponendo le foto delle vittime, degli striccioni e poi formando un grande cerchio in Piazza Salotto, proprio per ricordare questa tragedia, una tragedia che chiedono i parenti delle vittime, ora attende giustizia. Noi allora possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato, proprio su questo flash mob che si è tenuto in Piazza della Rinascita a Pescara. Il servizio è curato da Stefano Recanati. Un flash mob per ricordare e dare giustizia alle 29 vittime dell'hotel Rigopiano, quello organizzato dal comitato vittime di Rigopiano, è svoltosi a Pescara a tre mesi dalla tragedia. Per non dimenticare le vittime, per non dimenticare che ci siamo, per non dimenticare quello che è successo e per non dimenticare che la neve non c'entra nulla, la valanga non c'entra nulla, è solo la mano dell'uomo e questa mano dell'uomo va presa e va punita. Aspettiamo fiduciosi, stiamo sempre aspettando, a tre mesi è rimasto tutto invariato. Aspettiamo, sperando che la loro visione sia come la nostra, lo sappiamo, abbiamo fatto un'ipotesi, speriamo che coincida. Noi andiamo avanti con la forza di volontà che non ci deve mancare. Siamo uniti, compatti, pronti alla verità, siamo pronti, qualunque questa sia, però la verità è. Il corteo, partito da Piazza della Repubblica, si è poi radunato in Piazza della Rinascita dove alle 16.48, ora ipotetica della valanga, i partecipanti hanno formato un grande cerchio accogliendo l'esibizione dei bambini che al suono della canzone Il Cerchio della Vita, di Ivana Spagna hanno scritto sulla pavimentazione del piazzale i nomi di chi non è riuscito a scappare da quel disastro e liberato in cielo 29 colombe bianche. Sì, ancora tanto il dolore. Le due parole che emergono anche in questa giornata sono dolore e giustizia e chiaramente il nostro ricordo va a tutti loro, a tutti quegli angeli che sono in cielo e ai familiari che continuano a soffrire come tutta una comunità che è quella pescarese, farindolesa, abruzzese in generale che è ancora scossa da questa immane tragedia. Qui a Pescara simbolicamente per la sede di giustizia che c'è, dove sede la procura quindi attendiamo con ansia le evoluzioni da parte delle indagini. Assolutamente commovente la manifestazione più genuina che viene dai bambini a ricordare degli angeli immacolati così come sono i bambini. Andiamo avanti, siamo sempre dalle pagine del centro. La cronaca di Pescara piano per ripulire il mare. L'ACA cerca due ingegneri e poi salute della donna. Incontri e visite gratuite all'ospedale di Pescara. Proseguiamo. Salvatore Ferri, l'assicurazione degli anni del boom. L'agenzia che da mezzo secolo investe su Pescara festeggia con un convegno sulle strategie nell'era dei tassi zero. E poi danza e musica nella scuola antisismica. Inaugurati la nuova Aulamagna e il laboratorio di serigafie stampa del liceo Bellisario Misticoni di Pescara. Siamo a Montesilvano. Teppisti a Pasquetta rovinano il sagrato della chiesa sul colle. Vasi rovesciati e marciapiedi spaccati davanti a San Michele. Maragno, il sindaco di Montesilvano, invoca collaborazione per cercare i responsabili. E a proposito del sindaco Maragno, si parla del Consiglio Comunale che si terrà domani per l'approvazione del bilancio. Si parla di resa dei conti per l'aggiunta di centro-destra perché non ci sarebbero i numeri o comunque i numeri sarebbero davvero al limite. Dunque si lavora nel centro-destra per ritrovare unità in vista del voto del bilancio. Allora possiamo andare a vedere il servizio che fa il punto della situazione. Amministrazione Maragno in bilico per due voti. A Montesilvano domani sarà la giornata dedicata all'approvazione del bilancio. Una previsione impossibile se si pensa che ad oggi sarebbero 13 voti a sfavore e solo 10 quelli a sostegno del sindaco. A detenere la fetta più grande è il gruppo Hashtag Montesilvano 2019 che ha intanto stilato diversi punti fondanti il proprio consenso. Un ago della bilancia, quello del gruppo di Antolin Aliano che potrebbe valere il commissariamento della città e il successivo ritorno alle urne per i cittadini. Una partita aperta. Messa in questa maniera sembrerebbe più una sorta di ricatto cosa che assolutamente non è. Perché noi da diverso tempo stiamo proponendo all'amministrazione una serie di punti a nostro avviso necessari per il rilancio economico, sociale, sportivo e turistico soprattutto della città. Abbiamo presentato nelle sedi opportune e sicuramente domani completeremo l'opera con un corposo numero di emendamenti per arrivare a questo fine. A nostro avviso è la sede più importante ovviamente è la sede necessaria per far valere le nostre ragioni e fare in modo che Montesilvano possa ripartire perché questi ultimi periodi sono stati caratterizzati da un immobilismo abbastanza inadeguato per una città di quasi 60.000 abitanti. Quello che sarà necessario per il bene della città sarà la nostra spinta per procedere in questo senso quindi non ci precludiamo nessuna decisione in questo senso però vogliamo valutare la bontà degli emendamenti proposti e del bilancio che ne verrà fuori e di lì decideremo. Restiamo a Montesilvano sempre dalle pagine del centro si parla di decoro urbano, più piante, fiori nelle piazze e nei rondò e poi tornano i premi ai negozi storici le attività aperte da 30 o 40 anni possono presentare domanda entro aprile e poi auguri a nonna Yolanda che a Montesilvano festeggia i 100 anni andiamo avanti, strada parco e mobilità appello ai due sindaci siamo ancora a Montesilvano riflettori puntati dei sindacati sul ruolo strategico di un impianto elettrificato tra Montesilvano e Pescara serve, dicono i sindacati, una posizione chiara senza ulteriori indugi e poi città Sant'Angelo e scontro sui fanghi a Piano di Sacco Montesilvano ancora in classe contro le barriere gli studenti sperimentano i disagi quotidiani dei disabili a Spoltore, libri di testo, via ai rimborsi restando sempre nella cittadina spoltorese e sbandieratori antichi mestieri nel borgo in piazza il fascino del Medioevo la segna con falconieri, spettacoli e gastronomia proseguiamo, siamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana di Pescara tragedia in piscina, abbiamo visto il titolo nella prima pagina del centro donto tecnico muore mentre nuota Francavilla, Marinelli si stava allenando come ogni giorno quando è stato colto da un malore a soccorrere uno dei figli e poi Francavilla, oratorio San Franco corso di formazione per gli animatori in basso ci spostiamo a Manoppello perché riparte il Cammino del Volto Santo terza edizione del pellegrinaggio in 12 tappe dal 9 al 20 maggio infine tornando a Francavilla mostra d'arte di primavera dal 29 aprile al 21 maggio nella città francavillese siamo alla pagina della provincia di Pescara all'alta Val Pescara e della zona Vestina ripartiamo dall'area della Val Pescara da Bussi perché l'accordo per la bonifica al vaglio del Consiglio Comunale l'amministrazione ha chiesto un rinvio al Ministero per esaminare in aula l'intesa tra enti locali Regione, Di Castero e Solvei per la pulizia ed il piano di reindustrializzazione del sito chimico e poi a centro pagina asilo con risparmio energetico in 9 giorni Moscufo realizzati in tempo record lavori di efficientamento da 50.000 euro nella scuola dell'infanzia poi penne rinviata l'udienza sulle partecipate in basso ci spostiamo a letto manoppello perché sabato si celebra il giorno della terra e siamo a Chieti la vicenda, in questo caso a Tortona per meglio dire la vicenda della duplice morte del doppio femminicidio accaduto giovedì scorso massacrata con 50 pugnalate l'autopsia svela la ferocia di Marfisi sull'amica della moglie e quattro difendenti mortali al cuore e ai polmoni di Laura vedete nella foto Letizia Primiterra la moglie di Marfisi e a sinistra l'amica Laura Pezzella noi ieri eravamo all'ospedale di Chieti con le nostre telecamere al termine dell'autopsia svolta sul corpo di Laura Pezzella andiamo ad ascoltare nel servizio proprio le parole dell'anatomo patologo Pietro Falco è stata colpita da 50 coltellate quattro delle quali mortali Laura Pezzella la donna di 33 anni uccisa il 13 aprile a Ortona in località Tamarete da Francesco Marfisi l'impiegato di 50 anni rinchiuso nel carcere di Lanciano che nello stesso pomeriggio ha ucciso anche la moglie Letizia Primiterra 47 anni lo ha rivelato all'autopsia eseguita a Chieti dal dottor Pietro Falco responsabile della medicina legale della ASL alla base del duplice omicidio ci sarebbe la scoperta da parte di Marfisi di una relazione tra le due donne non confermata dalle famiglie l'autopsia iniziata alle 7 del mattino si è conclusa alle 14 un lungo esame da cui è emerso che quattro fendenti letali hanno interessato polmoni e cuore le coltellate sono state inferte soprattutto a livello toracico nella parte anteriore ma ci sono anche colpi al dorso lesioni penetranti e profonde che non hanno dato scampo alla donna nel corso dell'autopsia i cui risultati definitivi si conosceranno almeno fra 60 giorni sono stati eseguiti anche prelievi di liquidi e materiale biologico per l'esame del DNA il dottor Falco una cinquantina tra il lato anteriore e il lato posteriore e di cui quattro sono risultati sono risultate letifere a livello toracico polmonare cardiaco sì questa diciamo così sono le conclusioni di questa prima autopsia un'autopsia durata 7 ore come mai tutto questo tempo? ma perché va fatta una descrizione analitica di tutte le lesioni vanno misurate repertate e quindi presuppone una come dire un rituale che porta via tempo quindi 50 coltellate sì 50 colpi sì sì quattro però quelli quattro quelli che hanno avuto come dire la causa che sono state causa della morte della della signora della vittima professore lei si è trovato evidentemente di fronte un corpo straziato sì diciamo è il corpo che è stato attinto da 50 colpi d'arma bianca l'arma utilizzata è unicamente il coltello? sì sì è un monotagliente quindi adesso vedremo la compatibilità con quelli posti sotto sequestro ma insomma le lesioni sono riconducibili senza ombra di dubbio ad una arma punta e taglio ecco rientriamo in studio abbiamo ascoltato proprio nel servizio le parole dell'anatomo patologo Pietro Falco e questa mattina il professor Falco eseguirà l'autopsia sulla moglie di Marfisi Laura Primiterra prima di fermarci per qualche attimo gli ultimi due articoli che riguardano Chieti e provincia a San Salvo in questo caso un altro attentato con il fuoco bruciate tre auto nella notte poi la prima sentenza che arriva a Chieti quel semaforo è fuori legge giallo troppo breve a San Buceto il giudice annulla la multa allora possiamo fermarci come detto per qualche istante andiamo a vedere le previsioni del tempo tempo in peggioramento già dalla giornata di ieri poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di mattino 6 torniamo in studio seconda parte di mattino 6 eravamo alle pagine del quotidiano il centro siamo a quella dell'Aquila tragedia sulla strada ritroviamo anche in questo caso l'articolo che aveva il richiamo in prima muore a 29 anni mentre va al lavoro Lucia Pierleoni era di Celano e lavorava a Pomezia lo schianto a Sora contro un furgone ferito un operaio e poi in basso vincita da un milione al super nell'alotto sul monacaccia al fortunato che ha giocato la schedina al bar stop con l'iniziativa speciale di Pasqua siamo a Teramo crisi in comune Brucchi il sindaco del capoluogo brutino Maurizio Brucchi è un passo dalle dimissioni i dissidenti dicono deve darle così nei 20 giorni prima della ratifica può azzerare la giunta e recuperare la maggioranza allora andiamo a vedere nel servizio di Tania Bonnici Castelli proprio il punto sulle questioni che riguardano la giunta Brucchi sarà un giorno importante per il futuro di Teramo in quel giorno si capirà se il sindaco Brucchi può contare ancora su una maggioranza stabile per andare avanti o se invece salterà il banco e tutti a casa la fatidica data è quella di giovedì 20 aprile per un consiglio comunale che di fatto non ha più i numeri dopo l'abbandono di tre consiglieri di centrodestra in aperto dissenso per l'allargamento dell'aggiunta a nove assessori i tre tre come si sono definiti fuoriusciti Falasca sbraccia e caccioni dopo aver contestato duramente le decisioni sul nuovo esecutivo voluto dal sindaco e dai leader dei gruppi consigliari Gatti Tancredi e Di Sabatino avrebbero però assicurato la loro presenza e il loro voto nel prossimo consiglio a favore del progetto della casa dello studente e poi sarebbero usciti dall'aula in attesa di assistere a questa performance politica dei tre tre chi sembra particolarmente sfibrato è Maurizio Brucchi in questi mesi il sindaco avrebbe cercato di mediare per ritrovare un equilibrio in consiglio che gli consentisse di continuare ad amministrare il capoluogo procedendo anche all'aumento degli assessori nonostante fosse un provvedimento in viso dall'intera cittadinanza il primo cittadino ora avverte tutti alleati e minoranza se ci sono le condizioni si prosegue altrimenti si torna a casa ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità cosa sarà del comune di Teramo lo si saprà solo nei prossimi giorni certo è che le elezioni politiche si avvicinano e Brucchi già si vede candidato e parlamentare di Forza Italia andiamo avanti ci spostiamo a Mosciano sempre dalla pagina del centro sono scappato perché ho avuto paura vedete l'articolo a fondo pagina si costituisce il pirata che ha travolto una donna davanti al figlio la mamma è in gravissime condizioni ricoverata in ospedale lasciamo dunque le pagine del centro ci spostiamo all'inserto Abruzzo del messaggero pagina 2 di cronaca regionale si parla di sostegno all'export con il ministro Alfano a Pescara per incontrare le imprese il Madin Abruzzo ha segnato un più 9,7% nel 2016 automotive farmaceutica e alimentare ancora in crescita e poi il ministro presenterà sempre a Pescara oggi alternativa popolare affollamento al centro dei nuovi partiti siamo alla cronaca di Pescara giustizia per i morti di Rigopiano tre mesi dopo la tragedia dell'hotel i parenti delle vittime si ritrovano uniti nel dolore dicono abbandonati dalle istituzioni abbiamo visto il servizio di Stefano Reganati qualche minuto fa e poi quanti grandi nel passato ma non rimpiango quegli anni Marco Alessandrini e i sindaci di ieri la nostalgia ha detto il primo cittadino inganna la prima repubblica ci ha lasciato debiti e incompiute andiamo avanti donne la vera cura e la prevenzione da oggi a lunedì un ciclo di incontri sulla salute al femminile alimentazione osteoporosi tumori ecco cosa c'è da sapere ci saranno questi incontri e formativi queste visite presso l'ospedale di Pescara e poi giornata dell'autismo snaturate il manicomio ai tempi del fascismo questa mostra in corso a Pescara e poi una cerimonia per ricordare il sindaco del boom ieri è stato ricordato l'ex primo cittadino di Pescara Antonio Mancini a 35 anni dalla scomparsa andiamo avanti ecco ritroviamo nella pagina dell'area metropolitana di Pescara la notizia che riguarda Francavilla stroncato da un infarto mentre nuota Mario Marinelli noto sportivo di 59 anni era in piscina Francavilla soccorsi vani e poi Montesilvano Stella Maris appalto per la colonia ma Maragno vuole proprio presso la Stella Maris le belle arti al tavolo di ieri tra comune e regione è emersa l'esigenza di evitare ricorsi con il cambio di destinazione d'uso siamo alla pagina dell'Aquila Gran Sasso un super festival per rilanciare la montagna si lavora l'accordo con il Terramano in vista dell'edizione di giugno-settembre previsti centinaia di eventi turistici cinema sport e cultura gastronomica e poi Smart City ricostruzione a tecnologia 5G il punto all'università e poi invece parlando di coda dell'inverno anche nella nostra regione progetti case proteste per il freddo abbiamo un attimo perso la pagina che andiamo a recuperare proteste per il freddo all'Aquila ecco qui si all'accensione dei termosifoni cambiando argomento andiamo a vedere anche questo articolo di spalla il pressing del sindaco Massimo Cialente che dice la regione chiede approvi subito il piano del parco in basso bloccati dopo l'inseguimento spunta la droga tre arresti all'Aquila poi false fiduzioni undici indagati andiamo avanti sindaco rifondazione valuta la carta perilli per sfidare il settebello comune attesa per l'ottavo annuncio in vista delle elezioni tra sinistra e liste civiche ipotesi convergenza al capolinea ovviamente si lavora per le amministrative campagna elettorale già al via i nomi ufficiali leggiamo in questo risvolto dell'articolo sono quelli di Biondi Cimoroni di Benedetto Pagliariccio Righetti Silveri e Trifoggi e poi Sisma l'Aquila chiama condizioni ai costruttori mentre ci sono 800 candidati per quanto riguarda la carica 800 candidati Benedetti dice 60 quelli reali cambiando argomento parliamo dei 100 anni a Pizzoli della signora Finomena la apostina del piccolo centro dell'Aquilano e poi lo show invece di Battista tra Greg e Ugo Ledoro domani il comico sarà all'auditorium della guardia di finanza con i Barahonda e poi il riconoscimento studio sui raggi cosmici premiato il fisico Evoli siamo alla pagina di Avezzano Sulmona anche in questo caso ritroviamo la notizia riguardante la scomparsa in un incidente stradale di questa 29enne di Celano la vittima è Lucia Pierleoni lo schianto a Sora stava percorrendo l'ex superstrada dell'Iri e ha speronato un Ducato e poi Marsica stretta dei carabinieri con i controlli del territorio nel periodo post pasquale arresti e denunce poi Celano traggio e minacce agli agenti assessore denunciato poi Sulmona Pasqua milionaria vinto un milione di euro ad Avezzano Francesco Eligi il candidato sindaco dei 5 Stelle Castel di Sangro Moria di Trote Fiume Sangro inquinato e poi infine Sulmona in basso Slow Food rilancia il circuito dei ristoranti siamo alla pagina di Chieti precedenza al giro scoppia la polemica sulle strade da rifare nel pacchetto da 350 mila euro per riparare i danni causati dal maltempo il comune infila anche le vie della Corsa Rosa e poi in Parlamento il caso del nuovo ospedale mentre per quando riguarda gli scambi culturali gli studenti del Massachusetts studenti americani a Orsonia per ammirare i talami in basso svariggiate le casette dell'acqua ladri in azione per pochi spiccioli siamo alla pagina di Lanciano Vastortona Laura massacrata con 50 coltellate l'autopesia ha rilevato dettagli macabri sul duplice omicidio Marfisi ha infierito sull'amica della moglie quattro i fendenti letali e poi Parco della Costa Teatina appello a Mattarella e Gentiloni ambientalisti mobilitati alla luce dei ritardi e nel timore di nuove speculazioni ieri c'è stata una conferenza stampa a Pescara proprio degli ambientalisti abruzzesi per illustrare i dettagli di questo appello inviato al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio andiamo a vedere il servizio una missiva diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni ad inviarla sei associazioni ambientaliste che chiedono di sollecitare nuovamente la conclusione dell'iter istitutivo del Parco Nazionale della Costa Teatina una storia lunga vent'anni l'avvio nel 1997 che oggi dopo l'annunciata perimetrazione rischia nonostante tutto di essere inficiata dalla lentezza burocratica il timore è quello della cementificazione dell'area la cosa più grave è che nel 2015 quando di fronte alle incapacità del Ministero dell'Ambiente e delle strutture locali di determinare il confine del Parco la Presidenza del Consiglio dei Ministri nominò un commissario il commissario in pochi mesi fece una perimetrazione e l'ha inviata due anni fa ormai alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che doveva semplicemente prendere questa perimetrazione elaborarla cosa che è stata già fatta tra l'altro e mandarla alla Presidenza della Repubblica per la firma per far nascere definitivamente il Parco Nazionale in due anni non è stato mai fatto abbiamo per questo il venerdì scorso scritto a Gentiloni noi i WF Italia Nostra Lega Ambiente Mare Vivo FAI e Pronatura abbiamo scritto al Presidente Gentiloni dicendogli caro Presidente è ora di rispettare la legge semplicemente questo Tanti ritardi che mettono in discussione anche la tutela del territorio allora le associazioni scendono in campo per ricordare quello che si potrebbe perdere per il territorio Dobbiamo in questo momento in particolare difendere e proporre come elemento di nuova economia un'economia verde che rifiuta nonostante le tentazioni con la grande crisi di tornare a modelli precedenti modelli industrialisti di saccheggio del territorio noi dobbiamo imporci per una nuova economia una nuova economia verde che vede sì anche il turismo ma soprattutto il turismo culturale e ambientalista Andiamo avanti ci spostiamo a Vasto negozi nel Mirino ancora una spaccata e poi a San Salvo invece dunque pochi chilometri più a sud tre auto divorate da fiamme dolose in basso Lanciano i riti della Pasqua il tradizionale saluto dei Santi chiude le festività e sempre nella città frentana pista ciclabile Mastrangelo in difesa siamo alla pagina di Teramo del Messaggero a zerare la giunta e una nuova squadra abbiamo visto i problemi della giunta comunale teramana del sindaco Brucchi con il consiglio di domani decisivo e poi terapia del dolore Varrassi nominato presidente del WIP l'ex manager dell'ASR nella prestigiosa realtà del North Carolina e poi la guerra del teatro la Riccitelli tira dritto con le prelazioni degli abbonamenti ma i gestori della CS non danno la disponibilità del comunale e poi cinquantenne falciata l'investitore si è costituito l'incidente è quello di Mosciano Sant'Angelo e poi Giulianova nell'altra pagina l'adre dell'assalto della scuola Bindi durante le festività pasquali i malviventi sono entrati nell'istituto da una finestra della palestra portandosi via tutti i computer ancora Giulianova niente spettacolo musicale in piazza Belvedere mentre è stato arrestato e siamo alla cronaca un albanese per detenzione di droga a Roseto aumenti di tari e tariffe i democratici replicano mentre ad Alba Adriatica lungomare altre 54 palme da abbattere in basso Martinsicuro Beco 880 mila euro per la messa in regola siamo arrivati alle pagine dello sport ma abbiamo ancora qualche minuto da attendere perché andiamo a vedere invece le pagine interne del quotidiano la città e poi ci concentreremo ovviamente sullo sport abbiamo visto in apertura dell'appuntamento con Mattino 6 la prima pagina del quotidiano la città andiamo a vedere le pagine interne pagina 2 Regione Abruzzo la cronaca in questo caso 50 coltellate per uccidere la seconda vittima duplice femminicidio dalla prima autopsia emerge l'accanimento di Marfisi contro l'amica della moglie e poi politica Angelino Alfano oggi a Pescara per presentare alternativa popolare e poi Bussi Colosso Belga alla guida della bonifica della discarica in basso finanziamenti urgenti contro l'erosione a Roseto Martinsicuro e Silvi la Regione mette sul piatto 670 mila euro per i tre comuni terramani una cifra complessiva di 170 mila euro Teramo ultimo appello per l'amministrazione domani il consiglio decisivo lo abbiamo detto prima abbiamo visto anche il servizio di Tania Bonnici Castelli per le sorti del sindaco Brucchi si cerca ancora una quadra in extremis proseguiamo il forum della città utero lo screening salva vita l'as di Teramo fa il punto sulle tre campagne lanciate due anni fa e lancia l'help desk per i vaccini andiamo avanti case vere non casette per gli sfollati la Regione bandisce l'acquisto di immobili da destinare a chi ha avuto l'abitazione con danni di categoria E ed F e poi sociale da domani in distribuzione il contributo per gli sfollati sempre a Teramo e poi Uniteplug chiede idee ma non più curriculum col nuovo incubatore d'impresa l'Ateneo promuove le start up e rivoluziona la formazione post universitaria Carapollo bene il guado adesso il ponte siamo a Teramo dopo la riapertura della Teramo Ambiente il consigliere Luca Corona rilancia sulla necessità di un passaggio stabile proseguiamo andiamo ancora avanti il patto dei veleni il sindaco non ha tradito perché non ha mai firmato il segretario del PD siamo a Roseto Simone Aloisi replica ad Abruzzo Civico la stretta di mano era sul programma e non sul poltrone andiamo ancora avanti il documento mette a rischio il ruolo di Nunez in provincia Renzo Di Sabatino il presidente della provincia di Teramo dice PD e Abruzzo Civico sono sempre più distanti ora c'è un problema politico siamo alla pagina della Val Vibrata partiamo da Tortoreto Giuseppe Tarantino sarà il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri e poi ad Albadriatica processo Fadanibis verso la sentenza in basso a Martinsicura lontano da casa per le botte agli anziani genitori e poi il pirata di Mosciano si è costituito il 36enne impiegato del posto e fuggito dopo aver travolto una 51enne ricoverata in gravi condizioni in ospedale e poi scuola ancora successi per gli studenti del liceo Curie di Giulianova e sempre a Giulianova in basso Lido delle Palme bloccato dall'inchiesta in comune pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi partiamo da Roseto dove troviamo questa notizia di cronaca fermato con 50 grammi di cocaina 26enne albanese finisce in manette e poi a Roseto i privati sponsorizzeranno i giardini pronto in via libera al regolamento che libera gli operai comunali dalla cura e poi a Pineto il parco marino fa il pienone e sorpresa ospita la cantante Fior Daliso e poi ancora Pineto in basso domenica torna la festa di Mutignano in fiore pagina della cultura Braga Pagliaccetti e il Duomo Azzurro arte libri e foto e docufilm così Giulianova festeggia la Madonna dello splendore poi università gli studenti imparano a fare il curriculum in inglese l'incontro è stato promosso dall'ufficio Jobet Plasment dell'Ateneo in collaborazione con il servizio EURES andiamo avanti per giungere alla pagina che riguarda lo sport il calcio ed il teramo in questo caso teramo senza scampo deve vincere e sperare sei scontri diretti nelle ultime tre giornate per tentare la scalata salvezza Narciso il portiere Biancorosso dice play out noi non ci pensiamo e vedete in basso questi schemi con questi riquadri otto riquadri delle otto formazioni che sono impelagate nella zona bassa della classifica si parte dal Sud Tirol che ha 41 punti per arrivare all'Ancona ultima la formazione dorica con 28 punti lasciamo lo sport di Lega Pro dalle pagine del quotidiano la città e parliamo di sport invece dalle colonne del centro ripartendo in questo caso dal Pescara Pescara che si prepara al posticipo di lunedì prossimo alle 20.45 allo stadio Adriatico con la Roma Zeman Caprari e Verre per la vendetta degli ex il Boemo esonerato nel 2013 i due calciatori scaricati dal club di Pallotta dunque Pescara che cercherà di fare lo sgambetto alla formazione giallorossa di Spalletti e alle ore 12 di questa mattina inizia la prevendita oltre 3.000 tifosi arriveranno dalla capitale e ricordiamo che essendo questa considerata una delle tre gare a rischio di questa stagione per quanto riguarda le partite casalinghe del Pescara l'intero settore di Curva Sud sarà riservato ai tifosi giallorossi in basso si parla di Vitturini che sperano i mondiali under 20 il terzino Biancazzurro fermo da tre mesi non vuole perdersi il torneo a giugno in Corea del Sud stagione sfortunata per Vitturini alle prese con diversi contrattempi fisici e poi si parla di Lega Pro nella pagina successiva di Teramo con il portiere Narciso che dice credo ancora nella salvezza diretta e poi la doppia pagina con i dilettanti del prima del rush finale nei campionati di eccellenza e promozione per arrivare all'ultima pagina di sport che riguarda la palla a nuoto in particolare con il servizio di apertura della World League la spinta di Avezzano non basta però al sette rosa buona risposta di pubblico sugli spalti ma l'Italdonne deve inchinarsi all'Ungheria sugli scudi la Maggiara buica entrambe le squadre alle fasi finali di Shanghai vedete il tabellino con l'Ungheria che ha battuto l'Italia per 12 a 10 e poi ciclismo paralimpico Luca Pizzi crea maniga il nuovo team parte con buoni risultati in basso due notizie la prima riguarda il tennis Maccari e Di Sarra guadagnano il pass per gli internazionali infine l'atletica Gasbarri ha stabilito il nuovo primato personale il 22enne mezzofondista Teatino continua a migliorarsi negli Stati Uniti e siamo alle pagine dello sport del messaggero prima di salutarci ripartiamo dal Pescara operazione Zemanlandia si lavora sul mercato per costruire una squadra per la B che sia formata secondo i dettami del tecnico Boemo trattativa non facile con la Juve per Orsolini e Favilli attuali giocatori dell'Ascoli il Sassuolo per ora dice no all'accessione di Iemmello e poi si parla della partita con la Roma ci saranno Ben Ali e Bayback dall'inizio almeno queste le previsioni e poi da oggi la prevendita per il posticipo come detto Curva Sud interamente riservata ai tifosi giallorossi in basso Narciso portiere del Teramo dice che la squadra lotterà per evitare i play out tra l'altro ricordiamo che domenica il Teramo sarà di scena all'Elvia Recina di Macerata pagina 2 di Sport dal Messaggero in alto il primo articolo riguarda il basket parla amoroso che dice Roseto panchina decisiva nei play off e poi si parla di serie 2 anche nell'articolo di spalla in questo caso della project Allegretti carica la project serve intensità difensiva e poi pallamano d'Arcangelo farma più un traguardo impensabile con la formazione angolana di pallamano sempre più protagonista in stagione e poi pallacanestro trofeo delle regioni la Lombardia trionfa vittoria sia nel torneo maschile che in quello femminile tredicesimo e quindicesimo posto per gli abruzzesi e poi la pallacanestro abruzzese dice addio a Mimmo Trivelli storico allenatore di squadre della nostra regione soprattutto nel Chietino scomparso nelle ultime ore e poi tornando al calcio in questo caso parliamo dell'Aquila a parlare e Minincleri che dice le difficoltà hanno reso l'Aquila più forte e poi il calcio giovanile a Pineto slitterà alla fine di giugno il Memorial Mariani Pavone siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di mercoledì 19 aprile con Mattino 6 io vi ricordo il prossimo appuntamento informativo quello come sempre delle 14 con la prima edizione del TG6 Mattino 6 invece puntuale alle 7 grazie dunque per averci seguito appuntamento a domani per Mattino 6 alle 14 per la prima edizione del nostro TG buona giornata per la prima edizione per la prima edizione Grazie a tutti.